...è bravo, ci vanno... Eh, 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 mio nome è bravo, sono bravo, chissà che tu mi portava. Oh, signore, certo che quando eravamo scappoli io mi sentivo così, mentre adesso che siete sposati io mi sento inutile. No, no, dai, non infamiamo i vecchi tempi passati, ormai, ci vanno. Amore, guarda, sono tutti i telegrammi di bentornato. Oh, oh, sì, sì. Il Vescovo che ci ha sposati. Ah, il Vescovo? Oh, questo è un Vescovo, amore. Sì, forse a tutto, la casa, il Presidente della Camera, il tuo zio, tutta la tua famiglia, amore. Sì, sì, sì. Poi abbiamo anche questo... Arcivaldo? Signore! Amore, ma non c'è qualcosa che non fa. Che? Niente. Arcivaldo ti prego piano subito la villa dell'Ambasciatore di Turchia, prega Mustapha Bey di venire qui immediatamente. Oh, sì, sono tornati i piccoli tempi. Arcivaldo? Signora? Ho una cosa molto importante da dire a mio marito. Signora? Intanto tu mostra la casa agli ospiti, il boudoir, la stanza d'aletto. Il boudoir, signora, il boudoir è stato risciacquato dal Cavalier Taraci, salottino. Il salottino, la stanza d'aletto? Sì, signora. Prego, signori, da questa parte. Lui la sposa e io devo mostrare la camera d'aletto. Signori, prego, prego. Sì. Sì. Sì.